Fino al 13 luglio nei locali dell'ufficio Rapporti con il pubblico del Consiglio regionale è allestita la mostra Il Gesso, albero dimenticato nel paesaggio agrario piemontese e il suo legame con il bacco da seta. L'allestimento realizzato in collaborazione con il Museo regionale di scienze naturali è articolato in cinque sezioni tematiche. Come e che cosa mangiavano i lavoratori piemontesi nelle fabbriche del secolo scorso? Lo si può scoprire visitando la mostra Fame di lavoro, storie di gastronomie e operaie allestita a Palazzo Lascaris fino al 22 luglio. L'esposizione, che illustra le peculiarità dell'alimentazione e del mondo del lavoro torinese propone immagini, oggetti e documenti d'epoca. Una sessantina di piatti che portano in presse vedute di Torino e del Piemonte sono esposti alla biblioteca della regione fino a venerdì 7 ottobre. L'allestimento dal titolo Il Piemonte sui piatti è curato dal collezionista Piero Gondolo della Riva.